Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie, dal 19 maggio 2018, del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana. A quanto pare la Markle non si sente in colpa per aver preso le distanze dalla Middleton, dalla quale sperava di ricevere più sostegno durante la sua permanenza nel Regno Unito. Questa mancanza di sostegno ha generato un profondo risentimento nella duchessa di Sussex, poiché considerava Kate come l'unica che avrebbe potuto e dovuto comprendere le sue sfide come outsider nella famiglia reale. Del resto Kate, proprio come Meghan, non ha neppure una goccia di sangue blu. Entrambe sono semplici con Moner. Il rapporto tra le due cognate resta dunque teso, e complesso, e solo il tempo dirà se le loro divergenze saranno superate. Grazie. 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 Grazie.